Bene, iniziamo questa seconda parte dei nostri lavori. In questa seconda parte noi ospiteremo il Sottosegretario della Giustizia Jacopo Morrone, che ringrazio anticipatamente della sua presenza. Per l'osservatorio ADR la presenza del Sottosegretario Morrone è importante nell'ottica di continuità dei nostri lavori, nel senso che noi come ente, essendo un ente prettamente di ricerca, il nostro obiettivo è quello di dare continuità alla nostra attività con qualsiasi tipo di governo, cercando di promuovere la nostra mission, che è quella della promozione dei sistemi ADR e del nostro credo, ossia del come intendiamo utilizzare la disintermediazione e la decentralizzazione. Prima di dare la parola ai nostri ospiti, saluto qui sul palco il prorettore dell'Università di Bari, Giuseppe Pirlo, vorrei tributargli un gradito applauso, e l'Avvocato Enrico Sirotti Gaudenzi. La presenza del professor Giuseppe Pirlo non è casuale, perché l'Università degli Studi di Bari è socio fondatore dell'osservatorio sull'uso dei sistemi ADR. Noi all'interno del nostro board abbiamo realtà composite, tra cui anche università, come l'Università degli Studi di Bari Aldomoro e anche l'Università di Cassino e dell'Azio Meridionale. Di questo ne andiamo particolarmente orgogliosi, perché, diciamocelo in camera caritatis, non mi ascoltano nell'etere, non mi ascoltano. Generalmente è sempre difficile coinvolgere un'Università all'interno di un ente che non nasca direttamente dall'Università, mentre il nostro amato rettore Antonio Ricchio, una persona estremamente visionaria ed aperta, ha accettato di far parte di un contenitore che non era un contenitore universitario, così come anche l'Università di Cassino e dell'Azio Meridionale, questo è un banto assoluto per noi. Quindi, infatti, noi quando piccoli piccoli ci siamo organizzati in osservatore, siamo andati a parlare con l'Università, non pensavamo effettivamente di avere questo accredito che è stato importante. Il professor Pirlo rilazzerà, ne era su un tema molto importante per tutti noi, ne abbiamo parlato nella prima fase, ma lui parlerà in maniera precisa del tema della cyber security. E quindi sarò molto lieto di dargli la parola. Adesso mi tocca, mi tocca il compito, come aveva detto Francesca Tempesta nella prima parte, di definire quella che è la nostra vision per quanto riguarda il lavoro. Io mi scuso anticipatamente con voi, perché si tratta di una vision, credo che sia, me lo dico da solo, particolarmente audace. Però bisogna avere il coraggio delle proprie responsabilità e quindi avere il coraggio anche di esprimere quelle che sono le proprie visioni sull'attuale sistema del mondo del lavoro. E poiché è una relazione abbastanza composita, ho deciso di non andare anche a braccio, come generalmente faccio, ma a questo punto di asporla. Perché alcuni concetti, per quanto possano essere comuni, però tenderei a precisarli. Allora, avete mai sentito parlare della variabile costante ineludibile? No, la variante costante ineludibile è presente in tutti i sistemi capitalistici centralizzati. La sua formula, che abbiamo ideato, è B sta ad A più X. Che cos'è B? Che cos'è X? E che cos'è la A? Il fattore B sono le nostre necessità, sono i nostri bisogni. Il fattore X è la corruzione. Il fattore A rappresenta i bisogni e le necessità delle organizzazioni intermedie. In definitiva, la variabile costante ineludibile dei sistemi capitalistici centralizzati è lì ad indicarci, a svelarci quanto segue. In un sistema capitalistico, il soddisfacimento dei miei personali bisogni ha sempre un costo. Che è dato dal bisogno delle organizzazioni intermedie o di intermediazione, perché anche qualora il livello della corruzione fosse pari a zero, il valore del bisogno delle organizzazioni intermedie sarebbe sempre pari ad uno. Di conseguenza, non sarò mai libero di soddisfare un mio bisogno se non sarò prima in grado di soddisfare un bisogno, una necessità altrui. Questa logica si applica in tutti i settori, ma in primis al lavoro. Infatti, se la funzione B rappresentasse il lavoro, se la funzione X rappresentasse la corruzione, cioè tutto ciò che sabota il cosiddetto ascensore sociale, quello che non ci permette di salire o scendere, detto fra di noi, la raccomandazione. La funzione A che cosa rappresenterebbe? La funzione A rappresenterebbe, anzi rappresenta, i sistemi motetari, che non sono altro che strumenti di pagamento, ovvero dei mezzi di intermediazione, che si frappongono come una barriera tra me ed il mio bisogno. Mezzi di intermediazione che per essere soddisfatti necessitano del mio lavoro, di alimentare il mio bisogno. Quindi non ci potrà mai essere lavoro senza strumenti di pagamento. Di conseguenza, il lavoro non è altro che un mezzo per poter ottenere uno strumento di intermediazione. La realtà dei fatti oggi è questa. Io lavoro per ottenere un mezzo di pagamento che a sua volta è uno strumento di intermediazione tra il mio bisogno e ciò che effettivamente mi serve. Tutto ciò che cosa ha prodotto in un sistema economico centralizzato che si è perso il valore del lavoro, non più come mezzo per esercitare il proprio talento, ma come mezzo per conseguire uno strumento di pagamento che mi possa consentire di soddisfare un mio bisogno. Capite bene che in un sistema capitalistico centralizzato a lungo andare la parola capitale con il tempo tende a sopprimere qualsiasi forma di capitale che non sia il denaro. Il capitale umano tende a perdere valore. Tutto è finalizzato al consumo sino a quando non ci sarà più nulla da consumare, sino a quando non ci saranno più risorse da consumare. I sistemi capitalistici centralizzati sono destinati a morire e a portare con sé la razza umana. Siamo ancora in tempo per salvarci, ma occorre un approccio culturale nuovo che ci porti ad eliminare quella costante, variabile e ineludibile, creando nuovi ecosistemi capitalistici decentralizzati. Ho lasciato la parola capitalistico, la definizione capitalistico, perché per capitale intendo soprattutto fondati sul capitale umano. E quale dovrebbe essere il primo ecosistema capitalistico decentralizzato da creare? La risposta per me è semplice, ma non banale. Il lavoro. E come dovrebbe essere il lavoro? Punto primo. Sappiamo innanzitutto quello che non dovrebbe essere, ovvero un mezzo, un mezzo, per conseguire uno strumento di intermediazione, il denaro, tra me ed il mio bisogno. Punto secondo. Il lavoro dovrebbe essere un valore, quindi non il mezzo, ma il fine. Il lavoro come bisogno, il lavoro come necessità di esprimere il proprio talento. Terzo. Il lavoro deve essere esso stesso un mezzo di intermediazione, deve avere di condivisione e di partecipazione. E per poter essere contemporaneamente un mezzo di intermediazione, di condivisione, di partecipazione, il lavoro deve essere equiparato alla funzione B, ovvero al mio bisogno di esercitare un mio talento. Il lavoro è la funzione B. Il lavoro è l'esercizio del mio talento. Lavoro perché mi piace fare ricerca. Lavoro perché mi piace fare il medico, ovvero guarire. Lavoro perché mi piace fare l'avvocato, ovvero per fornire consigli legali. Ma questo non basta. Il lavoro deve avere dentro di sé i codici per poter essere condiviso e scambiato. Per acquisire quei codici il lavoro deve essere quantificabile, distribuibile, in una parola tokenizzabile. Ma questo ancora non basta. La tokenizzazione, intesa come condivisione, distribuzione, scambio, deve poter avvenire in modo naturale, facilmente eseguibile, in modo smart, senza intermediazione. In modo smart, perché il lavoro deve essere un token, deve avere dentro di sé i codici, e per codici intendo uno smart contract. Il lavoro deve essere un asset digitale, scambiabile. Per questi motivi la tokenomics, per noi, prima di essere un sistema economico, è un nuovo sistema sociale che si fonda sul lavoro, inteso non più come mezzo, ma come il fine, come il valore da scambiare, condividere, partecipare. Mentre oggi tutti i sistemi economici e capitalistici sono predittivi, si basano su stime di produzione e di consumo, la tokenomics non è un sistema economico, ma è un sistema sociale che funziona per obiettivi di sviluppo. Quindi, quando oggi mi chiedono che cos'è in comune la blockchain con l'ADR, rispondo che la blockchain è, ad esempio, la mediazione, hanno lo stesso comune minimo denominatore, la disintermediazione. Ambi due sistemi sono volti a facilitare i rapporti umani, disintermediandoli e decentralizzandoli. In che modo, ad esempio, l'ADR nell'e-commerce, che è un lavoro, l'ADR nell'e-commerce, sarò abbastanza dura nel dire questo concetto, che è un lavoro che nessun organismo di mediazione vuole svolgere perché costa fatica e non è economicamente vantaggioso per chi lo esercita, può divenire un ecosistema decentralizzato. Ciò avverrà nel momento in cui tokenizziamo l'ADR e lo facciamo diventare smart attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Qual è il nostro bisogno? Risolvere circa due miliardi di controverse che non vengono risolte perché non c'è un interesse economico a risolverle? Bene, creiamo un ecosistema EI-ADR di intelligenza artificiale distribuita attraverso token su blockchain regolato automaticamente da un'intelligenza artificiale. Quindi un sistema capitalistico decentralizzato che chiameremo tokenomics si fonderà su lavori che verranno svolti direttamente dall'uomo qual'esercizio del loro talento e lavori che verranno svolti da intelligenze artificiali per liberarci da lavori che non desideriamo svolgere. In questo sistema che si fonda quindi sul capitale umano accadrà che persone che non hanno ancora sviluppato il proprio talento o che si debbano formare abbiano la necessità la necessità di acquisire da una parte una parte scusatemi del nostro lavoro del nostro valore per poter progredire per poter vivere. In questo sistema sarà pertanto fondamentale dar vita ad un sistema di welfare complementare a quello degli stati completamente decentralizzato che abbiamo chiamato di welfare neurale. Perché neurale? perché nel momento in cui tutti noi decidessimo di cambiare il nostro modo di vivere di intendere il lavoro come un fine e non come un mezzo ma come un bisogno dello spirito tokenizzabile rendendolo smart inteso come gestito da smart contract diverremo diveremo al tempo stesso hub e server dati ovvero saremo automaticamente connessi gli uni con gli altri ecco perché oggi dicevo che il concetto di voler costruire autostrade digitali ci fa ritornare indietro agli anni 90 oggi il concetto è di essere parte di reti neurali in questa realtà potremo affidare ad uno smart contract senza costi di intermediazione senza corruzione di prendere una parte del mio valore dei miei token e distribuirla a chi non ha valore ecco quindi che cos'è per noi la tokenomics che cos'è la nostra strategia la nostra strategia di politica tokenomics che si fonda di una visione della società utopica tipica dei sistemi decentralizzati democratica e solidale con il nostro sistema così come l'abbiamo autorizzato di intelligenza artificiale e IDR distribuito vogliamo liberare l'uomo dal lavoro inutile e risolvere un problema al mercato digitale con la nostra visione di welfare desideriamo dar vita ad un nuovo sistema di welfare neurale gestito da smart contract che raccolga valore e distribuisca valore entro il 28 febbraio finiremo la selezione di quelli che noi abbiamo definito folli e visionari sviluppatori esperti investitori che ci accompagneranno in questa grande avventura nel caso in cui qualcuno di voi fosse particolarmente interessato a essere parte di questa nuova avventura le nostre porte sono aperte perché c'è posto per tutti abbiamo dato una visione inizia il viaggio perché questa che stiamo vivendo è la prima e vera più grande migrazione della storia dell'uomo e noi siamo i veri migranti del ventunesimo secolo i migranti da un sistema economico da più sistemi economici centralizzati a sistemi economici decentralizzati grazie a tutti mi scuso con voi ma dovevamo avere la necessità di lanciare dei concetti nuovi all'interno della tokenomics del mercato cripto noi abbiamo associato quindi un nuovo concetto di valore inteso non più come mezzo ma come un fine che ha in sé i codici e codici prendetelo veramente come parola codice per poter essere scambiato ma questo mi auguro di poterne discutere con voi in particolar modo col professor Grech quindi questa è la nostra visione di un nuovo tipo di umanità che si affrancherà naturalmente ai sistemi economici centralizzati naturalmente la nostra visione non si deve scontrare con la problematica del presente che è quella della cyber security naturalmente tutti noi oggi siamo impegnati nel processo di fare in modo che queste nuove tecnologie siano a disposizione di tutti in maniera decentralizzata che possano servire fortemente a aumentare il nostro livello la nostra libertà e soprattutto a rafforzare la democrazia sono particolarmente lieto e onorato di dare la parola al prorettore dell'università di Bari che affronterà proprio il tema della cyber security professor Giuseppe Pirlo buon pomeriggio intanto vorrei ringraziare anche al nome del magnifico rettore il professor Antonio Felici Uricchio tutti quanti in particolare gli organizzatori per aver voluto coinvolgere anche l'università in questo caso l'università di Bari ma diciamo il sistema delle università a questo importante dibattito parlare di cyber security è ovviamente ormai di moda in realtà vorrei partire da qualche diciamo considerazione che anche deriva dalle suggestioni che la giornata odierna ci ha fornito la cyber security è un problema come dire globale così come può essere l'uso di tecniche innovative legate alla blockchain per esempio e quindi il problema di affrontare i temi di cyber security è strettamente legato non solo all'ambito tecnologico e qui possiamo dire tante cose io sono comunque un informatico quindi diciamo è un po' il mio mestiere ma soprattutto ha delle ragioni e porta in sede delle ragioni diciamo strategiche e anche di gestione politica di questi temi non si può immaginare affrontare un problema così globale con soluzioni molto locali non funziona quindi per affrontare degnamente il problema della cyber security dobbiamo lavorare su un problema che è sicuramente politico su un problema diciamo infrastrutturale di gestione amministrativa e poi sulle competenze e bisogna lavorare su questi temi con coraggio è stato detto prima da Gian Mario ha usato la parola coraggio e in effetti è necessario proprio avere coraggio per affrontare questi domini così trasversali e così ampi molto spesso molto spesso questo lo dico perché mi è capitato nella sala del mappamondo che è qui insomma in questo stesso palazzo di aprire il primo barcampo europeo sull'agenda digitale essere cer più che aprire il primo barcampo europeo sull'agenda digitale e adesso l'Italia come mi insegnate dagli indicatori del DESI è tra il 25esimo e il 26esimo posto su 28 nazioni eravamo partiti per primi eravamo partiti per primi adesso la situazione italiana è tale per cui siamo seguiti soltanto più o meno anno per anno cambia ma di poco e il rischio che vada peggio è reale siamo seguiti soltanto da Romania Bulgaria e Grecia questo significa che a valle di considerazioni eventi suggestioni e impegno bisogna mettere le cose a sistema altrimenti avremo soluzioni in qualche modo rabberciate e addirittura non soluzioni spacciate come tali nel campo della cyber security guardate noi sappiamo con certezza questi sono dati abbastanza recenti di Accenture che l'85% degli aziende percepisce un rischio in termini di sicurezza eppure quasi la totalità di queste aziende è impreparata ad affrontare questi rischi teniamo conto che la struttura diciamo aziendale italiana è tale per cui abbiamo tantissime piccole e medie imprese che da sole non sono pronte ad affrontare le problematiche spesso complesse legate ai crimini informatici d'altro canto i crimini informatici stanno diventando sempre più diffusi esistono dei kit sul web del tipo crime as a service per cui con 10 euro qualsiasi ragazzo può comprare un kit per tentare di hackerare qualcosa che lui decide di hackerare quindi può essere un aeroporto un scegliete voi un ospedale costa 10 euro i ragazzi sono tanti sono vivaci e magari hanno anche capacità e si vogliono divertire quindi seppure togliamo il problema dello spionaggio del contro spionaggio di queste guerre che sempre più e della realtà verranno combattute sul web anche un semplice ragazzino può mettere in crisi sistemi complessi può creare seri danni quindi il problema della cyber security è certamente come dire fondamentale ormai è un problema difficile da risolvere perché come mi insegnate se avessimo se abbiamo se immaginiamo diciamo di avere a che fare con una rete complessa e questa rete la dotiamo di tutti i dispositivi più innovativi e poi qui vale la pena diciamo evidenziare qualcosa la dotiamo dei dispositivi più innovativi per garantirne la sicurezza è sufficiente un atteggiamento sbagliato da parte di un qualsiasi impiegato o dipendente per in realtà lasciare spazio a un attacco basta usare un pendrive all'interno di una ASL e questo atteggiamento questo solo atteggiamento diciamo mette in crisi l'intera struttura certo l'intera struttura in sicurezza è abbastanza difficile porla e qui il problema politico noi non abbiamo in Italia come dire aziende nazionali che lavorano in maniera ampia su dispositivi legata al networking io sono un informatico da molto tempo noi avevamo aziende molto importanti tutti ricordiamo l'Olivetti adesso queste esperienze queste aziende sono purtroppo terminate quindi i nostri dispositivi quelli che usiamo in questa stanza o presso altre aziende o presso le pubbliche amministrazioni o presso le università e quant'altro sono tutti dispositivi cinesi e americani fondamentalmente per dare due nomi Oneway e Cisco allora se noi usiamo dispositivi cinesi e americani noi siamo fondamentalmente degli acquirenti la nostra rete è acquistata di sicurezza sulla rete possiamo si parlarne ma fino a un certo punto noi compriamo dei dispositivi come se andassimo a comprare una macchina e ci dicono guarda questa macchina è sicura va bene ce lo dicono gli altri ok ce lo dicono gli altri quindi fermo restando che noi viviamo in questo mondo ci piaccia o no questo è il mondo di ora qui in questo momento questa è la nostra situazione ovviamente nonostante abbiamo questi dispositivi perché abbiamo purtroppo come dire sottoutilizzato una straordinaria serie di competenze che avevamo maturato in quegli anni mi riferisco agli anni 80 90 insomma adesso dobbiamo ripartire da quello che siamo compriamo dispositivi dall'esterno le nostre reti sono quasi tutte praticamente tutte realizzate da dispositivi che noi non produciamo in Italia quindi se volete da dispositivi che noi non conosciamo perfettamente diciamola tutta perché non li abbiamo progettati noi sono i nostri ragazzi che vanno spesso fuori a progettare questi dispositivi ma noi diventiamo acquirenti dei prodotti sviluppati altrove quindi un primo problema lo viviamo ed è questo è gravissimo è un problema molto importante per garantire in più tenete conto che delle grandi aziende che gestiscono le reti sono in parte non italiane o in gran parte non italiane e quindi diciamo io voglio proprio capire chi garantisce le informazioni che girano su queste reti perché non mi è del tutto chiaro quindi un primo problema è questo delle infrastrutture siamo molto infrastrutturati voi sapete benissimo che siamo anche ultra infrastrutturati ma sappiamo che di fatto utilizziamo molto poco e molto male la nostra infrastruttura in Italia soprattutto in alcune regioni dell'Italia non abbiamo capacità di tirar fuori valore da questa infrastruttura quindi siamo tutti quanti collegati abbiamo tutti quanti il nostro smartphone online però fondamentalmente chattiamo o stiamo su Facebook o qualcosa di simile ma non riusciamo a derivare valore valore economico sociale attraverso questi dispositivi questo perché le nostre competenze sono tutto sommato abbastanza scarse sono scarse guardate a livello europeo alcuni indicatori chiariscono in maniera come dire chiara che anche nel paese più avanzato tecnologicamente quindi con competenze straordinarie è fisiologico che una certa percentuale della popolazione non sia in qualche modo adeguata a un uso pieno congruo dei sistemi ICT bisogna metterlo in conto questa percentuale è stimata sul 12% quindi se noi dovessimo immaginare un paese straordinariamente avanzato dobbiamo comunque immaginare nella ragionevolezza che su 100 persone 12 persone magari non sono propriamente abili ad utilizzare la rete bene in Europa questo numero è di circa il 23-24% quindi nella realtà in Italia supera il 34-35% con questi numeri noi non riusciremo mai a garantire la sicurezza delle nostre reti usano le nostre reti usano i nostri sistemi persone diciamo di ogni tipo che non hanno assolutamente competenza né per tirar fuori valore dagli strumenti che hanno ma neanche voglio dire per garantire che questi strumenti funzionino funzionino correttamente e funzionino in sicurezza allora c'è un altro sforzo da fare che è veramente importante e qui il coraggio serve tutto perché oltre come dire al desiderio genuino e pieno di passione di fare bene c'è bisogno purtroppo di attivare dei piani reali di investimenti reali legati a questo settore teniamo conto che questo settore è critico cioè questo è un classico esempio di un settore trasversale su cui si poggeranno tutte le applicazioni quindi se noi non assicuriamo che la nostra rete sia in sicurezza non possiamo mandare sulla rete né le informazioni legate alla Smart City né le informazioni legate alle nostre ASL né le informazioni riservate legate alle pubbliche amministrazioni non possiamo semplicemente inviare nulla quindi questo cambio di passo va fatto e va fatto con urgenza e va fatto con decisione perché dobbiamo cercare di evitare situazioni con le quali abbiamo a che fare quotidianamente dove esistono tanti casi dove magari è anche normato il processo telematico ma poi al magistrato bisogna portare il documento su carta perché dice vabbè io non è che posso stare lì ad aprire il file non funziona l'allegato è troppo grande eccetera quindi dobbiamo veramente decidere di sposare l'innovazione l'innovazione è difficile sposarla in parte prima il collega di Malta la cui relazione diciamo è stata bellissima ha spiegato cose importanti lui ha detto giustamente a Malta si può fare perché Malta è piccola Malta è un luogo straordinario dove diciamo hanno intrapreso oserei dire con molto coraggio certe operazioni e le stanno portando avanti i risultati sono visibili cioè basti vedere diciamo io sono stato a San Giuliani diverse volte eccetera cioè lì a Malta arrivano aziende si insediano aziende arrivano ragazzi perché la possibilità di avere lavoro fa sì che questi luoghi diventino anche dei catalizzatori quindi uno va a Malta e ci trova mezza Europa uno va in Sicilia e non ci trova nessuno tanti siciliani vanno a Malta perché da Catania a Malta sono 20 minuti di aereo vanno a lavorare a Malta perché in Sicilia questa gente non ha i nostri ingegneri informatici e quant'altro non hanno la possibilità di sopravvivere allora quando anche si parla dell'università l'università certamente come dire è fondamentale non perché ci sia io ma perché è chiaro che l'università prepara in qualche modo il terreno voi sapete l'università ha tre ambiti di attività fondamentali la ricerca la didattica noi diciamo che non si può fare buona didattica senza ricerca e quindi la cosiddetta terza missione cioè il ruolo dell'università che va ad agire direttamente sul territorio quindi si confronta con le aziende si confronta con le pubbliche amministrazioni eccetera allora è evidente che l'università ha un ruolo ma quando noi formiamo parlo non dell'università di Bari ma delle università italiane in generale quando noi formiamo delle competenze è necessario che queste competenze vengano in qualche modo riconosciute e valorizzate nel nostro territorio perché se noi diciamo sviluppiamo competenze non me ne vorrà l'amico di Malta per andare a Malta voglio dire anche questo è dal punto di vista nostro un investimento che non è granché e questo è esattamente e questo è esattamente quello che accade quindi noi dobbiamo con determinazione immaginare di mettere al centro le competenze perché le competenze hanno un ruolo centrale su questi aspetti legati alla cyber security perché il tecnico il super esperto adesso parleremo anche di questo ma che mette in sicurezza una rete o un sistema questo noi lo sappiamo fare non è questo il problema del resto queste competenze si comprano non bisogna saper fare tutto ma il problema è che le persone che utilizzeranno queste reti cioè le persone che stanno nelle nostre aslo nei nostri ospedali o nelle nostre scuole o nelle nostre pubbliche amministrazioni sono completamente diciamo purtroppo incapaci di gestire questi sistemi e nessuno se ne preoccupa allora a quel punto la cyber security diventa soltanto un item una voce di costo per inserire qualcosa inserire un nuovo software o piuttosto un nuovo dispositivo ma praticamente non cambia nulla quindi sposare la cyber security significa sposarla completamente diventa un elemento prioritario per lo sviluppo tenete conto che le aziende che pensano di non essere mai state in qualche modo bucate a livello informatico probabilmente non lo sanno sono stati bucati tutti tutti senza diciamo senza nessun problema quindi alcuni semplicemente non se ne sono accorti non se ne sono ancora accorti ma le informazioni state certi che le hanno praticamente possono prenderle tutti quanti senza nessunissimo problema e ancora una cosa in ordine per esempio al al discorso sempre delle competenze noi abbiamo a che fare con una sfida che è in atto tra attrarre alcune persone diciamo questi ragazzi straordinari che riescono a come dire interpretare questi fenomeni sulla rete e quindi in qualche modo a come dire prevenire attacchi e quindi noi se dovessimo individuare questi ragazzi gli dovremmo proporre delle chance anche per migliorare no? invece cosa accade? accade che dall'altra parte cioè se un ragazzo è bravissimo da una parte ha una tentazione di come dire osare elevatissima tenete conto che è facile anche guadagnare in maniera molto semplice sapendo agire in un certo modo sulla rete dall'altra parte cosa gli offriamo il nulla cioè non gli offriamo neanche un lavoro onesto gli offriamo fondamentalmente di restare disoccupato allora noi come sistema degli università abbiamo e diciamo è in atto un'attività molto interessante praticamente stiamo lavorando sui giovani ragazzi per capirci sedicenni diciottenni lo so che non sono dell'università ma queste sono le età in cui la gente diventa hacker o comunque straordinariamente brava è difficile selezionarli sapete perché è difficile definire le domande a cui questi devono saper rispondere per un docente è difficile capire quando un ragazzo ha qualità per fare l'hacker perché è anche difficile pensare alle domande i casi sono infiniti non è come diciamo studiare un testo una poesia i casi sono infiniti ma supponiamo di riuscire a individuare questi ragazzi e questa è un'operazione che stiamo facendo stiamo facendo come consorzio interuniversale nazionale per l'informatica stiamo selezionando i nostri ragazzi migliori da un punto di vista tecnico in grado quindi di diventare hacker o di scoprire hacker no? bene una volta che li individuiamo cosa faremo di questi ragazzi? gli daremo un contratto diciamo a tempo determinato di sei mesi dall'altra parte gli offrono una barca di opportunità l'altra parte è quella sbagliata ma gli offrono un'enormità ok? bisogna capire se questi ragazzi li vogliamo tenere dal lato nostro o li vogliamo o vogliamo che vadano dall'altra parte io vi posso dire che non c'è nessun impegno che io sappia in questo momento per tenere dalla parte nostra questi ragazzi che sono straordinari e che sono gli unici che ci possono difendere in una battaglia virtuale da attacchi portati da altri quindi o si fanno scelte di campo decise noi vogliamo che i nostri sistemi siano in sicurezza e quindi si lavora sulla cultura si lavora sulle università si lavora su questi ragazzi straordinari che esistono in Italia e che purtroppo vanno fuori si lavora sulla politica si lavora sulle infrastrutture eccetera oppure semplicemente non vorrei che si ripetesse quello che è già accaduto che eravamo i primi a parlare di agenda digitale il primo barcampo europeo l'abbiamo fatto qui a Montecitorio e poi dopo qualche anno siamo 25esimi su 28 la speranza è quello che questo non debba accadere io sono convinto che gli organizzatori che vedo determinatissimi di questa iniziativa sapranno come dire evitarci questo problema e quindi vi saluto davvero dicendo semplicemente una cosa nel 94 che è un po' uno stile di vita per noi un po' dell'università di Bari ma anche credo di tanti nel 94 il credo nel 94 il vicepresidente Al Gore dell'allora vicepresidente Al Gore degli Stati Uniti d'America che era un ingegnere scrisse un lavoro su una rivista di informatica ovviamente noi informatici sembrava che scriva un vicepresidente degli Stati Uniti su una rivista di informatica poteva scrivere altro sulla rivista nostra una rivista tecnica che era i tripli computer quindi sulla rivista di computer di elaboratori e lui scrisse un articolo che era un po' che aveva questo titolo vabbè in italiano era ritardare l'innovazione significa negarla a quei tempi non vi nascondo che molti di noi lessero distrattamente questo articolo però dopo tanti anni vi devo dire che diciamo esattamente il rischio che corriamo molto spesso noi parliamo tanto di innovazione ma non la riusciamo a intercettare non abbiamo nel coraggio a volte non abbiamo i mezzi perché per poter usare tecnologie avanzate c'è bisogno anche di una normativa che sia avanzata e la normativa deve essere a disposizione qui ed ora non possiamo aspettare che tra tre anni si inizierà a fare la prima normativa perché altrimenti gli altri semplicemente avranno diciamo lavorato al posto nostro e noi rimaniamo sempre al palo come il caso dell'agenda digitale quindi io veramente intanto vi ringrazio dello spazio che mi avete concesso e vorrei dire questo proprio cerchiamo di utilizzare questo suggerimento letto su questa rivista tanti anni fa cioè l'innovazione se la vogliamo veramente adottare qui e ora altrimenti semplicemente non c'è significa che noi siamo qui diciamo giusto per un talk e poi in realtà la neghiamo grazie assai grazie professor Pillo del suo intervento adesso facciamo un change per quanto riguarda i relatori invito qui sul palco chiedo al professor all'avvocato Sigotti Lorenzi che resta qui chiedo l'intervento sul palco del dottor Jacopo Visetti prego e dell'avvocato Enea Franza avvocato Enea Franza verrà qui ok perfetto bene potete accomodarvi siamo sempre in attesa che arrivi il sottosegretario Morrone andiamo a questo punto ritorniamo sul tema tokenomics e affrontiamo diciamo l'aspetto dell'innovazione da un punto di vista concreto con la partecipazione di Jacopo Visetti che è autore di una ACO efforts il quale ci racconterà la sua esperienza e successivamente darò la parola all'avvocato Enea Franza che rappresenta qui oggi la Consob e lo ringraziamo perché come sapete effettivamente oggi abbiamo rappresentato abbiamo presentato una realtà che ha quotato il proprio token all'interno del mercato cripto che è France e abbiamo una realtà nascente che sta per essere quotata all'interno del mercato cripto che è rappresentata qui da Jacopo Visetti con efforts naturalmente c'è un problema attualmente in campo che il legislatore europeo sta cercando di risolvere ma anche le legislazioni naturali che riguarda l'utilizzo dei token intesi o come asset class o come asset digitali Malta è intervenuta sulla regolamentazione dando una linea di condotta e di indirizzo il legislatore europeo sta lavorando la SEC in America ha dato diciamo delle disposizioni e quindi ne parleremo con l'avvocato Franza adesso io sono lieto di dare la parola a Jacopo Visetti perché Jacopo è qui non solo per presentare perché ha presentato e sta realizzando un ACO che sarà quotato a breve ma che perché ha contribuito alla realizzazione del testo di legge per eliminare i brogli elettorali ok per quanto riguarda i sistemi di voto degli italiani all'estero e quindi la sua partecipazione è in qualità di tecnico che ha contribuito quindi alla presentazione di questo disegno di edge che è di imprenditore e ti lascio volentieri la parola grazie Gian Mario vi ringrazio tutti per essere qui oggi è un grande onore per me potervi parlare di quello che è stato diciamo un progetto che ha preso molto tempo per essere realizzato soprattutto per essere studiato e cercherò di semplificare al massimo quello che è stata diciamo la nostra esperienza di tokenizzazione di un prodotto che è oggi molto standardizzato ovvero l'energia noi abbiamo lavorato per moltissimi anni in azienda per cui lavoro per moltissimi anni nel settore dell'energia in particolare dell'efficienza energetica che oggi è un tema molto caldo sia a livello istituzionale sia a livello industriale legato all'efficientamento di processi sia industriali che domestici un paio di anni fa ci siamo trovati in una situazione nella quale cominciava a diventare sempre più difficile soprattutto in un contesto internazionale riuscire a garantire quello che poteva essere diciamo la trasferibilità dell'efficienza energetica o di interventi di efficienza energetica realizzati ad esempio sul territorio italiano e di spostare questa stessa efficienza energetica presso la sede di una società multinazionale faccio un esempio in Asia vi do un breve esempio mettiamo che un'azienda decida di fare efficienza energetica in Italia quindi di risparmiare sulla bolletta elettrica e questo risparmio decida di trasferirlo a una sede fisicamente dall'altra parte del mondo oggi questo non è possibile se non dal punto di vista meramente economico allora abbiamo cominciato a pensare a strumenti di interconnessione ovviamente virtuali dei vari sistemi elettrici oggi molti paesi non si parlano sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista trasferibilità da lì abbiamo cominciato ad approcciare il discorso della blockchain e del concetto di tokenizzazione ovvero come posso smaterializzare qualcosa che oggi è fisico e trasportarlo su un sistema da un punto a un altro rendendolo fruibile in maniera standardizzata per entrambi semplifico il concetto come posso trasformare l'energia elettrica o il risparmio energetico italiano e trasferirlo mettiamo in Cina e farlo suffruire all'azienda alla sede cinese al pari di quanto ne potrebbe suffruire in Italia da qui l'idea di creare un token quindi di fatto uno strumento digitale che rappresentasse di fatto un kilowatt elettrico se noi riusciamo a standardizzare un prodotto digitalizzandolo e rendendolo univoco quindi sottostante era appunto una blockchain in questo caso una blockchain pubblica abbiamo utilizzato la blockchain Ethereum che poi come dicevano prima i miei colleghi di Friends la prima blockchain che ha permesso diciamo la creazione di smart contract mi era possibile trasferire ad appunto A e B istantaneamente un bene con un valore e con diciamo una quantità definita in questo caso il kilowatt se prendiamo questo concetto questo è diciamo espandibile a qualsiasi altro bene sia standardizzato che non standardizzato perché il token in sé dà la possibilità di standardizzarlo facciamo un esempio più banale un imprenditore edile può decidere di tokenizzare una palazzina e quindi anche persone che non hanno la possibilità di acquistare facendo esempio un appartamento intero come un investimento ma decidono di acquistare semplicemente una quota invece di andare ad acquistare una quota alla società che detiene l'immobile possono acquistare dei token questi token possono poi essere scambiati in maniera più rapida e quindi il ritorno in questo caso qui o la trasferibilità del bene sottostante essere resa molto più rapida e accessibile nel nostro caso il punto principale era quello di riuscire a definire con più precisione quelli che erano effettivamente i risparmi generati da aziende o da privati a seguito di interventi poterli quantificare in maniera estremamente precisa e solo allora rilasciare la quantità di risparmio in questo senso tokenizzandola per poi poterla trasferire questo che vantaggi ha dato alle aziende a chi non era dentro al sistema innanzitutto il mondo dell'efficienza energetica fino a breve a poco tempo fa era accessibile solo e scusamente a operatori qualificati del settore energetico e chiunque avesse avuto faccio un esempio per le persone che sono qui ha una casa in città e una casa al mare e decide di fare un intervento efficiente energetico a casa sua faccio un esempio cambia la cucina cambia le lampadine e vuole trasferire quel risparmio energetico con l'energia non utilizzata alla casa al mare oggi se chiama l'Enel e chiede o la 2A o qualsiasi altro utilità italiana e chiede di farlo probabilmente non troverà grandi risposte dall'altra parte invece tokenizzando il risparmio di fatto uno torna proprietario dell'energia che non utilizza o che in questo caso qui che risparmia accumula sotto forma di asset digitale trasferisce all'altra proprietà ovviamente voi direte ma praticamente questo come funziona funziona in maniera abbastanza semplice se definiamo una rete elettrica come qualcosa di fisico allora chiaramente trasferire da un punto A a un punto B diventa complesso ma se la rete è digitalizzata e il bene quindi la rappresentazione del diritto diciamo a quella quantità di energia è smaterializzata e trasferibile da punto A a punto B allora la cosa diventa molto più semplice e anche molto più rapida quali sono i vantaggi dell'utilizzo della blockchain innanzitutto che i consumi elettrici e i relativi risparmi sono certificati certificati senza più bisogno di faccio un esempio un contatore o la lettura manuale per chi ancora la facesse in pochi penso ormai ma soprattutto non sono centralizzati presso l'ente che di fatto è lo stesso che vi vende l'energia cioè se qualcuno decidesse di imbrogliare sulla quantità di energia o sui costi della rete avendo un sistema di fatto già centralizzato come quello che avevamo messo in piedi sarebbe possibile certificare esattamente i consumi che avete avuto e quindi di conseguenza passatemi il termine contestare eventuali eventuali un costo unico per quello che sono tutte le vostre proprietà in questo caso se siete dei privati o per tutte le sedi qualora siete degli industriali e di conseguenza avere un costo unico singolo dell'energia indipendentemente da dove siete localizzati questo ci ha permesso innanzitutto di approcciare principalmente il settore industriale prima ovviamente di quello privato perché chiaramente gli interventi di efficiente energetica maggiori sono volti soprattutto al settore industriale ma ha tirato l'attenzione in particolare delle utility che si sono rese conto di fatto che applicando questo tipo di tecnologia non solo vanno a risparmiare sui costi di rete e quindi di conseguenza anche voi in un futuro spero ma soprattutto hanno la possibilità di accentrare in maniera più forte quello che è l'aspettativa di produzione elettrica quindi a maggior trasparenza del risparmio e accessibilità ai dati in questo caso qui di tutti sui consumi energetici si può produrre in maniera più efficiente e di conseguenza inquinare di meno e da qui è stato lo sviluppo principale che abbiamo realizzato è chiaro come diceva Gian Mario che oggi a livello nazionale manca ancora una legislazione che permetta diciamo in maniera forte di poter regolare questo strumento perché molti vedono il token di fatto come questo lo diceva sempre Gian Mario come uno strumento speculativo la verità è che se andiamo ad analizzare e spero che ve lo spiegate in maniera più chiara possibile lo strumento in sé il token in verità è una utility cioè uno strumento di utilità e non in sé uno strumento finanziario il sottostante valore economico che gli si dà non è dovuto per sé alla speculazione che ha bensì al valore tangibile che può avere una vita tutti i giorni grazie ancora bene quindi abbiamo qui un rappresentante della Consob che è Nea Franza che è stato uno dei primi autori diciamo di alcune monografie sul tema dei asset class e che quindi sta la Consob sta analizzando effettivamente il problema diciamo il fenomeno il fenomeno diciamo dei asset class e ce l'ho volentieri la parola proprio su per avere dall'avvocato Franz una disamina dei lavori condotti attualmente dalla Consob buongiorno io avevo preparato un intervento scritto sia per il consesso e l'alto profilo degli interventi e degli intervenuti ma arrivati a quest'ora non volevo tagliarvi con una lettura e preferivo insomma parlare a braccio perché volevo rispondere sostanzialmente a quelle che mi sembrano un po' le perplessità che vengono avanzate sull'attività delle autorità Banca Italia Consob e tutti i soggetti che comunque stanno lavorando all'interno del paese Italia per cercare di dare una risposta che sia la più consona possibile a quello che è questo nuovo fenomeno un fenomeno sicuramente che è il futuro come non ho mancato di osservare le mie pubblicazioni che apre tantissime opportunità ma in ogni opportunità c'è sempre naturalmente un rischio un rischio come ha osservato l'oratore che prima mi ha preceduto che se ne faccia un uso non consono ce ne sono tanti di scandali finanziari nella finanza è inutile ricordare Cirio Parmalat Giacomelli dove in realtà il prodotto era un prodotto semplicissimo si trattava di un prodotto standardizzato ben conosciuto azioni in realtà quello che interessa la Consob e quello che interessa l'autorità di vigilanza è andare a verificare non soltanto il prodotto ma anche l'emittente quindi le modalità con cui si affaccia questo prodotto ed evitare che ci possano essere problematiche successive in un'autorizzazione effettivamente non ben ponderata ma soprattutto creare una normativa che permetta uno sviluppo equilibriato si stanno muovendo le autorità europee sono da ultimo di recente nel mese di ottobre anche l'ESMA con un parere che è stato richiesto quasi definitivo ha dato una serie di paletti per cercare di finire in modo più consono anche avendo sentite le varie organizzazioni e i rappresentanti del mercato per cercare di fare una disciplina europea che sia all'avanguardia e la Consob sta lavorando attraverso il gruppo FinTech che è preseduto da uno dei commissari Ciocca a produrre un qualche cosa che sia utile perché ricordiamo il mercato italiano nonostante quello che sta succedendo negli ultimi anni è un mercato di risparmi un mercato di risparmiatore vengono in Italia molto spesso a fare shopping e noi per questo dobbiamo essere attenti e dobbiamo questo lo aggiungo io a titolo personale ho molto insistito nella mia relazione che comunque è passata ai vagli diciamo della commissione se ci fosse questa cosa la Consob e l'Italia vuole essere un mercato aperto a queste innovazioni e si vuole fare promotore di accogliere di far rientrare in patria tante attività economiche di questo settore che ormai sono stabilmente o meno dirottate verso il Medio Oriente Corea Cina e altri paesi di questo genere paesi probabilmente che hanno il vantaggio di un basso costo di energia e quindi si producono bene molte vanno avute virtuali e questo tipo di tecnologia però anche noi non siamo da meno e possiamo agevolare in un certo modo questo cammino e comunque è nostra intenzione non rimanere indietro e quindi accogliere a braccia aperte chiunque abbia il coraggio perché in questo momento il coraggio è di presentare un'offerta probabilmente sarà sottoposto a 10.000 controlli e 10.000 validazioni però potremmo dire dare un bollino che abbia valore per chi poi va a metterci i soldi soldi che si guadagnano più delle volte con fatica e che non sono regalati grazie grazie Avvocato Franza per il suo intervento io direi che avere la possibilità di avere qui l'Avvocato Franza della Consob per noi è importante oggi abbiamo cercato di dare una visione della tokenomics effettivamente cercando di impostare diciamo il tema sull'importanza qui oggi la presenza anche di Jacopo degli asset digitali ossia nel mercato nel futuro mercato del lavoro e avere un'interlocuzione da parte di chi opera nel settore con il regolamentatore del mercato per noi è importante quindi io vi ringrazio qui per la presenza e adesso diamo avvio un ulteriore brocco grazie il Dottor Visetti e un saluto all'Avvocato Enea Franza di essere stato qui con noi oggi grazie ancora invito qui sul palco l'Avvocato Fabrizio Vedana e il Dottor Giuseppe D'Aloiso grazie perché diamo avvio alla ultima fase della nostra lunga giornata che è l'istituzione del blockchain del Unoblockchain Prize allora nella prima fase come avete visto noi abbiamo assegnato il blockchain prize a quella che abbiamo ritenuto l'esperienza più lodevole nel settore blockchain per quanto riguarda un'organizzazione italiana che era rappresentata da France in questa fase in questa seconda fase del premio che è sempre stata ideata dall'osservatorio ADR ma con lo dobbiamo dire il contributo fondamentale di Unione Fiduciaria ringrazio di nuovamente l'Avvocato Fabrizio Vedana e io attributerei un applauso a Unione Fiduciaria perché ha promosso l'evento non l'abbiamo detto non l'abbiamo detto ma Unione Fiduciaria ha fortemente voluto e promosso questo evento Unione Fiduciaria che è partner dell'osservatorio ADR l'Avvocato Fabrizio Vedana è membro del nostro consiglio direttivo e quindi abbiamo deciso di premiare un ecosistema nel caso particolare l'ecosistema del settore bancario che sta operando utilizzando le nuove tecnologie in questo caso la blockchain quindi sono qui sul palco l'Avvocato Fabrizio Vedana e il Dottor Giuseppe D'Aloiso Dottor Giuseppe D'Aloiso che è il nostro editore insieme all'Avvocato Giuseppe Calabrese infatti tutti voi avete la rivista Chaos che è la rivista ufficiale dell'osservatorio sull'uso dei sistemi ADR e lo ringrazio e che hanno collaborato quindi nella scelta delle migliori eccellenze nell'ecosistema bancario da premiare e lascio volentieri a luogo la parola Grazie Gian Mario Allora rapporto blockchain e sistema finanziario come ha anticipato Gian Mario avevamo da esaminare questo rapporto e da capire quali tipo di interazioni potessero essersi già state e all'interno dello studio ci siamo resi conto di alcune eccellenze già molto importanti in questo ecosistema per questo abbiamo deciso di istituire il primo Junior Blockchain Prize quello del 2019 appunto e abbiamo individuato tre eccellenze abbiamo individuato l'eccellenza della Banca Popolare di Sondrio con il responsabile commerciale Pierluigi Carugo che è fra le prime banche in Italia ad utilizzare la blockchain integrandola nel processo di raccolta pensate nel consenso al rinnovo delle polizze RC auto una funzionalità disponibile addirittura attraverso internet banking si chiama scrigno internet banking questo portale in maniera tale che il consenso venga registrato appunto in blockchain poi c'è a proposito di quello che dicevamo prima fra l'importanza della blockchain il mondo finanziario è l'avvocato la professione di avvocato un'altra personalità di spicco che è l'avvocato Damiano Di Maio che è specializzato in diritto bancario e finanziario ed esperto in blockchain e criptovalute si è laureato nel 2011 e si è abilitato nel 2014 e ha un master a Londra nel 2017 giovanissimo ma ha già dalla sua molteplici successi nell'ambito cripto e blockchain e infine ultimo soltanto perché lo sto nominando per ultimo il professor Marco Giorgino che è il professore ordinario presso il Politecnico di Milano ed è responsabile scientifico di un osservatorio FinTech e InsurTech dal 2015 un punto di riferimento costante nell'innovazione digitale all'interno appunto dell'ecosistema finanziario e assicurativo italiano li ho presentati sommariamente immagino che il dottor Vedana voglia dire qualcosa in più rispetto a queste personalità di spicco e poi andremo a premiarli grazie ringrazio nuovamente gli organizzatori per aver dato a noi di Unione Fiduciaria la possibilità di far sentire la voce delle fiduciarie del mondo bancario in un mondo che cambia il mondo della blockchain il mondo delle criptovalute come già rappresentavo prima noi come Unione Fiduciaria stiamo seguendo da vicino l'evoluzione tecnologica perché oltre che essere una fiduciaria tradizionale abbiamo anche al nostro interno una divisione digital transformation che ha fatto e sta facendo della tecnologia una nuova importante risorsa proprio per gestire al meglio lo sviluppo che tutti quanti stiamo vivendo quotidianamente con app con internet e con tutti i sistemi tecnologici e ribadisco quanto già detto da chi mi ha preceduto la scelta alla quale abbiamo dato il nostro contributo in termini di idee di riflessione di premiare queste tre persone con le loro rispettive istituzioni quindi il Politecnico di Milano Banca Popolare di Sondrio e l'avvocato Damiano Di Maio è stata una scelta legata un po' anche al guardare oltre quindi la capacità nei rispettivi ambiti universitari lavorativi professionali di vedere nelle nuove opportunità che offre la blockchain la possibilità di mettersi in gioco e di non rimanere fermi ripeto sono contento che il contesto ci consenta di partecipare a questa premiazione a questo primo premio e lascio a questo punto la parola a Gianmario Battaglia per proseguire con la premiazione presentiamo il primo da premiare prego Giuseppe allora scusate quindi io direi per la Banca Popolare di Sondrio e qui in rappresentanza della Banca Popolare di Sondrio Pierluigi Carugo responsabile commerciale un applauso e invito Sabina qui a portare il premio prego buongiorno a tutti innanzitutto ringrazio questo premio tutto inaspettato a nome di tutta la Banca per un semplice motivo che per noi era una piccola cosa ritenevamo che fosse una piccola cosa questa piccola sperimentazione che abbiamo fatto di utilizzo di blockchain è stato illustrato prima si tratta sostanzialmente di scrivere nella blockchain pubblica la volontà di rinnovo della polizia assicurativa RC Auto per noi si trattava di questo un caso d'uso per tarre esperienza questa applicazione per provare poi altre strade stiamo già pensando altro qualcosa di più articolato e se vogliamo anche di più utilizzabile da parte da parte dei clienti mi ha sorpreso questo premio mi ha sorpreso anche un'altra cosa quando abbiamo lanciato questo efficienzamento di processo abbiamo ritenuto opportuno fare piccolo redazionale su una stampa stampa locale nelle zone in cui operiamo e con sorpresa ripeto un'altra volta abbiamo ricevuto parecchie telefonate di altre banche di altre società che ci chiedevano il perché il per come come abbiamo fatto per noi sembrava una cosa semplicissima ultima cosa che mi sento di dire e poi poi mi taccio è che probabilmente nelle realtà complesse noi cominciamo ad essere una realtà complessa perché siamo 3.000 dipendenti quando sono entrato in banca eravamo in 500 ci si conosceva tutti personalmente ci si scambiava parole circolavano la informazione in realtà più complesse queste informazioni fanno più difficoltà a circolare l'applicazione in questo caso concreto di blockchain nato per caso in un corridoio ho incontrato un collega che solitamente stava rinchiuso nei suoi uffici a studiare era un ambito tecnologico studiava blockchain che mi chiedeva che voleva avere un caso d'uso per applicarlo lui sarà innamorato della tecnologia noi dall'altra parte non conoscevamo questa tecnologia però avevamo bisogno di questa tecnologia per efficientare certi processi quello che mi sento di dire è quindi che in questo periodo si parla molto sempre per quanto riguarda il lavoro offerta di lavoro e domande di lavoro si devono incrociare si deve incrociare anche l'offerta di tecnologia con la richiesta di tecnologia per chi ha bisogno della tecnologia per efficientare i processi e questo credo che sia una riflessione che debbano fare soprattutto le aziende articolate e complesse perché molte volte non ci si parla si è chiusi a studiare la tecnologia si si innamora della tecnologia e chi può applicarla invece è occupato in altri ambiti grazie ancora chiamiamo premiamo adesso l'avvocato Damiano Di Maio prego dobbiamo indugiare per un attimo per le foto per i fotografi mi raccomando perché sento un momento importante bene avvocato a lei buongiorno a tutti ho preparato due righe di ringraziamento ringrazio gli organizzatori del Blockchain Italy Summit per questa importante iniziativa e per il prestigioso riconoscimento conferitomi e l'avvocato Fabrizio Vedana che per me è un esempio e una guida per il mio percorso di crescita umana e professionale abbiamo avuto ho avuto la fortuna di avere la sua supervisione ai tempi di unione fiduciaria e la fortuna di scrivere con lui uno dei primi libri sulla regolamentazione delle criptovalute della Blockchain che dà una sorta di visione delle opportunità che si prospettano per l'Italia e di un confronto con legislazioni come quella maltese o di Gibilterra che già sono avanti nella regolamentazione di questi prodotti ringrazio anche lo studio legale Nunziante Magrone di cui faccio orgogliosamente parte e che mi ha dato sempre un supporto e fiducia per le mie attività mi piace immaginare il mondo della Blockchain e delle criptovalute per noi giuristi come una sorta di carburante che alimenta il motore del nostro lavoro ovvero la curiosità questa innovazione è per noi un grande stimolo per interrogarci sul ruolo e sul contributo che possiamo fornire agli operatori del mercato affinché si possano creare nuove opportunità di business è necessario permettetemi di citare il grande maestro professore Guido Rossi che ci si muova all'interno del gioco delle regole dobbiamo cercare quindi di stimolare il dibattito sugli aspetti legali e regolamentari della Blockchain e diffondere la cultura dell'innovazione tecnologica come opportunità per migliorare la nostra società l'evento di oggi è un grande importante esempio di come l'Italia possa posizionarsi come guida e punto di riferimento in Europa per la Blockchain grazie a tutti adesso premiamo il professor Marco Giorgino buongiorno 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 buon pomeriggio grazie davvero è un premio è un premio che ci fa particolarmente piacere il premio non è al sottoscritto ma alla nostra iniziativa che all'interno del Politecnico di Milano ormai da 4 anni portiamo avanti di cui sono il direttore scientifico e come è stato anticipato prendendo il nome di osservatorio Fintech e Insurtech e credo che sia un momento straordinario questo della nostra vita dei mercati finanziari dei nostri sistemi bancari ci sono certamente alcune difficoltà ancora irrisolte però le opportunità che la tecnologia digitale in particolare la blockchain possono offrire sono veramente importanti e credo che questo farà selezione da qui ai prossimi anni fra 5 anni vedremo un panorama bancario finanziario assicurativo molto diverso da quello che oggi stiamo vedendo e uno degli elementi più dirompenti di questa trasformazione sarà certamente rappresentato dalla tecnologia digitale l'osservatorio come si posiziona in questo contesto noi abbiamo iniziato questa attività sistematica di rilevazione di studio di formazione anche per il mondo bancario e finanziario cercando di verificare come questi fenomeni quelli della tecnologia ma in particolare della digital transformation stavano avendo un impatto non soltanto sul panorama nazionale ma anche sul panorama internazionale e l'osservatorio ha proprio questo elemento distintivo dare all'Italia una finestra sul mondo quindi sul mondo internazionale cercando di capire quali sono le best practice che le istituzioni finanziarie di tutto il mondo più importanti le più innovative stanno cercando di implementare ma guarda anche tutto il mondo delle fintech e delle inshute cioè di quelle società che sono nate qualche anno fa qualche mese fa che continuano a nascere e che non sono concorrenti delle banche ma molto spesso sono partner e sono cooperatori rispetto a quelle che sono le strategie di innovazione delle banche non da ultimo però osserviamo anche tutto il comportamento fatto dai tech giant dalle società come Amazon come Google quindi questo per dire come il panorama è caratterizzato da operatori anche di estrazione di natura diversa il secondo elemento distintivo dell'osservatorio è quello che potremmo forse riassumere in una parola di cui oggi abusiamo sicuramente una parola molto abusata a meno che non sia una parola che può essere riempita di contenuto e che è il termine ecosistema è un ecosistema se posso permettermi quello di chi offre chi chiede tecnologia all'interno di una banca come abbiamo sentito pochi minuti fa ma è anche un ecosistema quello che è caratterizzato dalla presenza di operatori anche di natura diversa che insieme cercano di sviluppare innovazione di sperimentare di riprovare e di provare ancora perché è chiaro che i fenomeni innovativi non hanno un processo sempre strutturato e non è detto che sia sempre quella la strada giusta quella che iniziamo perché molto spesso in corso d'opera abbiamo bisogno di fare delle variazioni di percorso quindi dentro l'osservatorio il concetto di ecosistema viene sviluppato attraverso la partecipazione di operatori che sono di estrazione diversa ma che intorno al nostro tavolo e questo è il servizio che noi vogliamo dare al mercato si possono confrontare per capire quali possono essere le linee di sviluppo e di innovazione più adatte alle proprie necessità io vi ringrazio ancora molto mi fa molto piacere essere qui ma vorrei anche se in modo simbolico non sono presenti condividere questa gratificazione con tutti i ricercatori e i collaboratori che abbiamo all'interno del nostro Ateneo grazie Fabrizio siamo arrivati al termine al termine del blockchain prize allora possiamo rivelarlo questa fatica immane di organizzare un blockchain Italy Summit abbiamo lavorato per 45 giorni perché l'idea di realizzare questo evento l'abbiamo potuto poter tecnicamente realizzare in soli 45 giorni perché avevamo delle regole stringenti da parte della Camera dei Deputati nell'organizzazione di questo evento e io Fabrizio sono veramente orgoglioso di aver avuto la possibilità di organizzarlo insieme a te io e Fabrizio adesso lo svediamo abbiamo svolto il servizio di leva insieme non è come Totò e Peppino abbiamo svolto il servizio di leva insieme all'interno della Guardia di Finanza qui a Roma a Castelporziano e ci siamo ritrovati a distanza di 20 anni a distanza di 20 anni a parlare di innovazione tecnologica ci siamo già ritrovati tempo fa per quanto riguarda sempre il tema dell'ADR ed è nata una collaborissima collaborazione che ci ha portato a realizzare per primi in Europa diciamo questo evento quindi da parte mia perché è proprio un ringraziamento particolare a te e ad Unione Fiduciaria di aver accettato questa sfida e aver avuto l'audacia di considerarla da oggi in poi una sfida permanente una sfida permanente perché il nostro obiettivo è di effettivamente creare premiare scusatemi quegli ecosistemi che cambieranno e modificheranno negli anni a venire le nostre vite generalmente Fabrizio consentimelo quando si pensa alle istituzioni bancarie si pensa a istituzioni prettamente chiuse istituzioni che sono in certo senso cercano invece di non essere a favore della innovazione invece noi abbiamo trovato un mondo completamente aperto fantastico fantastico questa è l'esperienza ma fantastica l'ultima esperienza con il Politecnico di Milano che questo connubio tra istituzioni bancarie e Politecnico e poi l'ultimo quello che ha detto il professore è un po' che ricalca l'aspetto dell'osservatorio l'importanza di non restare chiusi dentro una stanza fra esperti di un solo settore l'importanza dell'innovazione sociale che è quella che noi abbiamo fatto quindi ti cielo volentieri la parola e tendo veramente a ringraziarti ancora di cuore di questa collaborazione che farà sicuramente forte sempre di più negli anni l'osservatorio di EF grazie Gian Mario possiamo rivelare un altro segreto che l'idea di partire con questo summit su blockchain è maturata poco distante da qua eravamo in galleria Alberto Sordi dove abbiamo incontrato un altro vecchio collega avvocato Stefano Varone che è vicecapo dell'ufficio legislativo alla presidenza del consiglio che fin da quel momento ci ha dato massima disponibilità di idee e di competenze per poi arrivare alla realizzazione di questo evento quindi diciamo che non ci è successo come in France a casa della nonna che si sono trovati a casa della nonna e da lì hanno cominciato ad elaborare la loro idea imprenditoriale noi il nostro summit l'abbiamo fatto nascere davanti a un caffè in galleria Alberto Sordi quindi sono io che ringrazio te ringrazio tutti i partecipanti e l'auspicio personale è che tante aziende di cui il nostro paese è ricco abbiano il coraggio la forza di di avere al proprio interno un ufficio che si occupi di quella che è la cosetta digital transformation in questo devo dire che Unione Fiduciaria con la sua direzione generale quindi il dottor Cappio che è il nostro mio direttore generale in modo anche un po' magari non condiviso da tutta la struttura ormai due anni fa ha dato vita a questo ufficio di digital transformation proprio per rimanere al passo coi tempi non ci si può fermare le realtà bancarie non possono aspettare di subire le conseguenze di un mondo che cambia sarebbe bello che magari in occasione magari di un evento futuro magari il prossimo anno si possa avere anche un primo confronto operativo tra gli uffici digital transformation di aziende di diversi settori quindi del settore bancario del settore finanziario del settore industriale del settore del turismo perché questo secondo me può essere un importante valore aggiunto che un summit un contesto come questo può dare allo sviluppo delle eccellenze del nostro paese personalmente sono molto felice di aver potuto essere presente oggi ad aver partecipato ai lavori aver appreso cose che non conoscevo con gli amici di Malta e non solo sono stati avviati dei discorsi che spero potranno poi presto diventare realtà con collaborazioni non solo tra aziende ma anche con le rispettive università il Politecnico di Milano è un'università con la quale Unione Fiduciaria collabora già da qualche tempo proprio per dare il suo contributo di idee di riflessioni e di competenze ecco mi piace pensare con questo chiudo che è questo un mondo comunque dove non bisogna dare per scontato nulla dove le competenze devono premiare quindi l'esperienza dei ragazzi di Friens l'esperienza dei premiati di oggi quindi dalla Banca Popolare di Sondrio l'avvocato Dambiano Di Maio Politecnico sono gli esempi concreti che le competenze le competenze sottolineo le competenze le professionalità devono essere valorizzate se ben usate possono portare lontano mi fermo qua e ringrazio ringraziamo anche Giuseppe D'Aloiso grazie e grazie a tutti e desidero tributare un caloroso saluto al sottosegretario della giustizia Jacopo Morgone grazie di essere qui invito qui sul palco l'avvocato Paolo Petrosillo perché siamo ormai alla chiusura dei lavori prego Paolo e lascio la parola per questa ultima fase una presentazione ad avvocato Sigotti Gaudenzi grazie sottosegretario di essere qui presente prego se posso io mi alzerei perché voglio anche ringraziare perché oggi sono doppiamente onorato sono onorato di essere entrato a far parte del direttivo di questo importante osservatorio e ringrazio tutti i partecipanti soprattutto l'avvocato Gianmario Battaglia e l'avvocato Francesca Tempesta e poi sono onorato anche di poter presentare personalmente il sottosegretario della giustizia l'onorevole Jacopo Morrone ma la presentazione non è a caso perché io ritengo che oltre al ruolo istituzionale che l'onorevole Morrone ricopre importante abbia anche una particolare sensibilità per le tematiche che questo osservatorio sta trattando da diversi anni perché l'onorevole Jacopo è un mio collega del mio stesso foro di appartenenza del foro di Forlì e Cesena col quale ho potuto in diverse occasioni confrontarmi sulla tematica della mediazione e oggi abbiamo affrontato tante tematiche non vi nascondo che volevo parlare anche di diritto bancario perché obiettivamente mi occupo di questa materia e mi appassiona e mi è molto piaciuta la relazione dell'avvocato della Consob però abbiamo parlato anche di nuove tecnologie ecco che la mediazione quando è nata era un istituto del tutto nuovo futuristico rispetto al contenuto del nostro codice di procedura civile tant'è che parecchi avvocati parecchi opinionisti giuristi temevano che la mediazione potesse o portare via lavoro o creare dei danni anche alla nostra professione forense invece come ogni novità se ben studiata e ben applicata può creare delle opportunità e l'abbiamo visto perché sta creando opportunità di lavoro e sta snellendo il carico della giustizia e l'onorevole Morone è stato intervistato ricordo diversi mesi fa una trasmissione televisiva un emittente regionale dove ero presente anch'io e la dottoressa Mirka Zavatta in merito a quanto farà questo governo per la mediazione perché tutti temevamo ricordate le lettere al ministro di giustizia che potessero venire ristretti alcune materie escludendole quelle materie che sono oggi obbligatorie e sono contemplate nell'articolo 5 come un obis del decreto legislativo proprio perché se vogliamo citarne due a caso la materia bancaria assicurativa non ha avuto un gran successo ma in questo governo che tutti definiamo del cambiamento e io voglio definire del miglioramento possiamo auspicarci una riforma della giustizia una riforma del codice di procedura civile che oggi è quasi a digiuno degli strumenti EDR in vista anche di un codice unico degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie la parola al sottosegretario grazie 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 della presentazione sì io ho detto bene sono un collega esatto del foro di foro di Cesena quindi poi fra l'altro la mediazione sì la mediazione secondo me è un buon strumento io sono anche mediatore nel senso che ho fatto tutti i corsi di formazione ho fatto il mediatore in diverse vicende e devo dire la verità laddove i nostri colleghi perché poi spesso e volentieri le parti sono gli stessi colleghi avvocati credono a loro volta nella mediazione si può ottenere un buon risultato laddove i nostri colleghi non credono nella mediazione spesso e volentieri si fa il primo incontro perché si è costretti a farlo perché magari è materia obbligatoria e poi dopo si rimanda il tutto a un giudizio la cosa importante è che comunque la mediazione deve cercare di evitare di andare in giudizio evitare le lungaggine di un giudizio evitare i costi di un giudizio e far sì che le parti trovino un accordo magari tagliandosi un dito entrambi però io ho notato ed è stata una mia esperienza personale che in tante realtà soprattutto quando sono convolte aziende quando sono convolte imprese la velocità della mediazione che in breve tempo è costretta comunque a dare un risponso è un qualcosa che è apprezzato quindi sicuramente è un qualcosa su cui questo governo deve ragionare penso che la mediazione non abbia un particolare colore politico ma sia un qualcosa di buon senso quindi bene il tavolo su cui si possa discutere come far a migliorarla quali materie sono più indicate e più idonee alla mediazione quali altre meno c'è la volontà anche di impiegarla anche in materia familiare quindi la volontà magari di fare dei primi incontri perché comunque quando si va quando si entra all'interno di un tribunale con un giudice comunque ci sono da parte anche degli stessi clienti anche una soggettazione diversa rispetto a quella che si ha con un mediatore che spesso e volentieri è il collega di turno che ha fatto il corso e viene nominato dall'organismo professionale quindi da parte mia c'è la volontà di portarlo avanti ecco soprattutto sono determinate materie da parte di questo governo c'è la volontà di riforme importanti con le dovute cautele nelle dovute tempistiche spiego spesso e volentieri apprendiamo dalla stampa possibili riforme già scritte e fatte quando in verità al ministero ci sono delle bozze delle idee che devono essere ancora condivise con gli esperti devono essere condivise con chi ci lavora con gli operatori del diritto quindi con gli avvocati con i magistrati con i magistrati onorari con tutte quante le categorie che si occupano quindi spesso e volentieri non fatevi ingannare dalla stampa che magari per fare il titolo dice sicuramente qualcosa in più ci sono delle bozze adesso per quanto riguarda la procedura civile c'è un articolato è stato redatto da alcuni esperti però è un qualcosa che va discusso approfondito stessa cosa maggiormente con ancora molto più cautela per quanto riguarda la parte penale soprattutto quando si parla di prescrizione quindi ecco bisogna fare un passo per volta e io sono per questo un pochino garantista nel senso che penso che delle riforme vadano condivise perché non è che con uno schiocco di dita o in sette mesi si può pensare di riformare quella che è la giustizia sicuramente la giustizia necessita di un miglioramento soprattutto quando si parla nei tempi dei procedimenti non possiamo sperare e pensare che ci siano procedimenti che durino anni con aziende o privati che si trovino in difficoltà perché comunque durando questi procedimenti tanti anni diventa sia per l'imputato quando si parla in penale sia per le parti per quando si parla nel civile agganciati a quello che è un tribunale che magari vede il passaggio di più giudici perché vengono trasferiti e quindi bisogna ripartire da capo e quindi cioè questi sono quelle cose che vanno migliorate quelle sono diciamo nel tecnicismo quelli che sono i tempi lunghi della giustizia dall'altra parte vanno comunque garantiti i tegrati giudizio quindi vanno garantite tutta una serie di garanzia e noi siamo anche un po' a tutela di questo quindi io vi ringrazio sono qua per un saluto e quindi non ho altro da esprimermi poi l'ultima cosa che mi viene in mente la cosa importante di questo governo che stiamo cercando di investire nel capitale umano ok andando a cercare di ascoltare quelle che sono le esigenze nei tribunali laddove mancano magistrati ordinari laddove mancano magistrati onorari con un ufficio del processo che è un procedimento che è iniziato anche prima di questo governo quindi ecco sicuramente nel capitale umano che passa anche sì dai 600 nuove assunzioni di magistrati ordinari che andranno a fatto brevissimo tempi tecnici più concorso ma passa anche dai 3.000 nuovi amministrativi che andranno ridistribuiti sul territorio perché effettivamente quando vado a visitare corde appello tribunali e vengo tirato un po' per la giacchetta perché mi dicono sottosegretario qui c'è una mancanza c'è una carenza di organico ecco è un percorso che ha iniziato sono soldi che sono stati impegnati già in legge di bilancio e quindi sono situazioni che cercheremo ad andare a sanare poi io ho un mio pallino personale che è quello che riguarda alcune secondo me sezioni di staccate di corte appello in determinate ragioni regioni laddove ne chiedano ne sentano il bisogno perché effettivamente ci sono corde appello faccio un esempio per tutti quella del Veneto quindi Venezia che è anche in una posizione logistica non semplice da arrivare e quindi si chiedono sezioni di staccate quindi secondo me va comunque fatto un approfondimento nel rispetto di quello che sono diciamo le disponibilità economiche e come vengono impiegati i soldi di tutti quindi questo è sicuramente un approfondimento c'è un percorso che sta prendendo piede ero pochi minuti fa con l'assessore a Friuli Venezia Giulia la settimana scorsa con l'assessore alla Liguria che riguarda gli uffici di prossimità quindi saranno uffici di prossimità saranno circa mille in Italia che andranno dislocati in tutto il territorio e andrà scelto con l'assessore regionale di competenza in diciamo in accordo con i comuni dove poter aprire questo sportello di prossimità che adesso è un contenitore per cui nella descrizione iniziale si potrà sicuramente guardare alla volontaria giurisdizione e quindi evitare che che ne so il parente o l'anziano che è costretto ad andare per un'amministrazione di sostegno e ce lo troviamo sotto il tribunale in ambulanza aspettando che il giudice scenda ecco magari può trovare lo sportello di prossimità dove c'è una videoconferenza nel comune o nella sala comunale o nella sala magari vicino a casa ecco sono tutte iniziative che devono secondo me la giustizia sia con una riforma completa ma sia è formata anche di tanti tasselli se riusciamo a diminuire quelle tempistiche riusciamo a dare un servizio migliore ai cittadini ecco questo vuol dire secondo me migliorare quella che è la giustizia poi le grandi riforme io sono sempre per portare dei risultati anche a breve termine perché spesso e volentieri e io ho visto in passato perché sono andato a leggermi i libri o a leggermi le vecchie commissioni vedevo che c'erano commissioni che lavoravano due, tre, quattro anni poi magari cadiva il governo e quella commissione il lavoro di quella commissione andava a messere un cassetto e finiva lì ecco secondo me il governo del cambiamento significa anche dare delle risposte a breve termine la politica è sempre stata abituata a dare risposte a lungo termine se riuscissimo a dare una risposta a breve termine aiutando io mi occupo anche delle professioni qui immagino ci siano tanti avvocati commercialisti ho convocato un tavolo sugli ordini professionali un tavolo sugli albi professionali rivedere un attimo quella che è stata valorizzare un attimo quella che è la professione e la professionalità ci sono persone che investono nei loro corsi di aggiornamento nelle giornate come oggi si formano a cultura e vedono spesso e volentieri non riconosciuto economicamente il lavoro che fanno io penso che vada rivalorizzato un attimo tutti quanti quelli che sono iscritti ad un albo perché comunque è una garanzia è una garanzia di professionalità è una garanzia che possiamo dare al cittadino che quella persona che è iscritta in quell'albo si presume debba dare un buon servizio al cittadino quindi capire un attimo e questo è un tavolo che ha aperto è la prima discussione una discussione importante che farà discutere ma è quella su un eco compenso o tariffe minimi e professionali sono state cancellate forse con un colpo di spugna forse in maniera troppo frettolosa io voglio riaprire con quelli che sono rappresentati gli ordini professionali per riaprire un dialogo su questi temi secondo me importanti che ci permettono poi quando io tornerò a fare l'avvocato nella mia provincia il mediocre avvocato di provincia o quando ci troveremo in tribunale comunque di far sì che ci siano anche tantissimi giovani professionisti che si avviano a questa carriera e che invece smettano di uscire dal mercato cancellandosi da quello che è un albo perché magari i costi sono eccessivi rispetto a quello che è il reale guadagno quindi ecco io penso che questo è uno sforzo che dobbiamo fare tutti quanti insieme a prescindere dall'albo di appartenenza se tutti quanti noi iniziamo a revalorizzare quella che è una professione che ci siamo costruiti con anni di fatica magari con un pendolarismo noi i forlivesi in genere vanno a Bologna a studiare e spesso e volentieri lo fanno con anni e anni di treno aspettando al buio al freddo quindi ecco se riusciamo a valorizzare un attimo quella che è la professionalità che ci siamo costruiti e a far capire che possiamo essere utili per la società perché diamo un buon servizio naturalmente il servizio se vogliamo che sia di un certo livello va pagato perché se non riusciamo a mantenere la segretaria non riusciamo a mantenere i nostri studi è ovvio che il mercato poi non dobbiamo farci secondo me mangiare dal mercato bene la concorrenza ma occhio alla sleale concorrenza e cerchiamo di salvaguardare quello che è un servizio che ci siamo costruiti io che ho imparato tanto dal mio dominus che magari per fare un atto impiegava anche uno, due, tre giorni e invece al giorno d'oggi spesso e volentieri hai la sleale concorrenza di chi magari fa fare quell'atto magari a uno che non è neanche laureato non ha neanche un riconoscimento professionale che però ha naturalmente una qualità inferiore poi dopo andiamo a vedere quelli che sono i problemi perché poi dopo da lì sorgono i problemi ecco quindi io sono a disposizione però voglio semplicemente fare un saluto e indicare quelle che sono le linee per i primi sette mesi per quanto possibile scusi ho parlato troppo no sottosegretario grazie sottosegretario io citerei citerei particolarmente che qui sul palco ci fosse un saluto formale tra lei e il nostro presidente dell'osservatorio il dottor Tormaso Marvasi che è anche presidente del tribunale delle imprese di Roma bene veramente la ringrazio per il suo intervento adesso cedo la parola all'avvocato Paolo Petrosello grazie grazie innanzitutto e ringrazio in particolare Gian Mario perché mi ha dato l'onore di chiudere grazie grazie devo dire che l'intervento di chiusura ha un po' il senso di fare la sintesi o di dare delle risposte a quello che è stato il senso del convegno io parto proprio dalla domanda del presidente di Gian Mario cosa c'è in comune tra la blockchain e l'ADR io per questo devo dire ho studiato perché essendo presumo di essere esperto di ADR nulla conoscevo pochissimo della blockchain quindi ho letto alcuni libri in particolare mi ha colpito uno che si chiama la terza ondata di un futurologo che si chiama Alvin Toffler che distingue la storia dell'umanità in tre ere la prima era che è quella dell'agricoltura basata sul senso dell'avere del possesso a cui è succeduta quella industriale basata sul fare evidentemente quindi come sappiamo le macchine hanno sostituito l'uomo in questa seconda fase si è arrivata poi alla terza fase che è quella dell'informazione di cui oggi si è parlato una era in cui chi aveva il controllo dell'informazione evidentemente aveva le leve del potere l'altro testo che ho letto invece di un processual civilista americano esperto di sistemi di mediazione che si chiama come gestire i conflitti diritto cultura e rituale mi ha colpito molto questo testo perché si esaminano i sistemi processuali quello europeo quello caratterizzato al giudice monocratico quello americano caratterizzato dalla corte è quello di una tribù africana la conclusione a cui arriva l'autore di questo libro è quello secondo cui non è il sistema di risoluzione delle controversie a forgiare la cultura ma è il contrario è la cultura che influisce sul sistema di risoluzione delle controversie passo però agli spunti che abbiamo avuto nella giornata di oggi ho preso un po' di appunti in particolare Giamari ha parlato ha dato una risposta a quello che sarebbe il tratto comune tra l'ADR e la blockchain ha parlato come avete tutti sentito di disintermediazione e questo preceduto però Francesca ha parlato invece di processo di fiducia volto alla disintermediazione un altro aspetto che mi ha colpito dei loro due interventi è la nuova idea di umanità che si sta portando avanti questo grazie ad uno sviluppo tecnologico senza precedenti un altro elemento che mi ha colpito che ha accomunato più interventi è l'attenzione per i ragazzi ha cominciato il professor il presidente Marvasi nel suo primo intervento a fare riferimento ai ragazzi ha continuato il professor Grich nel suo intervento e ancora il professor Pirlo sulla cyber security ed ha finito poi l'avvocato Vedana quando nel corso della premiazione ai ragazzi ancora però c'è un riferimento da fare non siamo in un paese dei balocchi è giusto dare atto dei rischi di cui si è parlato oggi l'onorevole Genaro Migliore ha parlato di post data di big data e post verità la lexio magistralis del proiettore è stata invece sui rischi della cyber security e da ultimo l'avvocato Franza ha fatto riferimento agli abusi in ambito finanziario voglio chiudere con un riferimento a un'altra citazione l'Economist nel 2015 titolò blockchain the trust machine scrivendo la vera innovazione non sono le monete digitali ma le macchine della fiducia a cui stanno dando vita e che promette molte altre cose concludo dicendo che probabilmente la blockchain sta dando vita a quella non è l'era della disintermediazione ma è l'era della fiducia e per rubare le parole di Gian Mario il lavoro oggi del terziario verrà sostituito dal lavoro tokenizzabile dove appunto chi intende fare il medico lo farà perché vuol curare e non per ottenere uno stipendio grazie grazie Paolo per la tua sintesi precisa e puntuale dei lavori di questa giornata io chiuderei questo prezioso momento lasciando la parola al presidente Marvasi con un ricordo eravamo qua si ricorda tre anni fa abbiamo premiato anche in quell'occasione dei giovani manager in quell'ambito avevamo avviato una collaborazione con Feder Manager e uscimmo da quella giornata con un entusiasmo grandissimo e con la sensazione forte di aver fatto forse la massima espressione di innovazione sociale io oggi esco da questa giornata con la stessa emozione per cui ringrazio vi ringrazio tutti per essere rimasti fino alla fine e presidente a lei si ringrazio tutti mi sento tokenizzato quindi sono molto contento di quello che abbiamo fatto oggi abbiamo sentito e ringraziamo un po' tutti in particolare il professore che da Malta ci ha portato la sua esperienza veramente e come dice Francesca ecco ci siamo sicuramente arricchiti e siamo carichi come al solito per portare avanti con Gennaro e poi con anche il sottosegretario Marone queste nostre iniziative per cercare appunto di realizzare come per la verità abbiamo sempre fatto qualcosa di concreto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti